Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi spiego come completare la sfida di consumare i pezzi di torta. Come vedete attorno alla torta ci sono dei pezzettini, non dovete fare altro che consumarli. A volte non ci sono, quindi dovete trovare anche una torta che li ha. Io sono qui alla foresta Frignante, se siete fortunati li trovate.